Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, campionato americano 2023, siamo al decimo turno e Caruana si riconferma campione con un turno di anticipo. Era il giocatore favorito ma soprattutto è in un grande momento di forma. Nella partita che andremo a vedere Caruana schiaccia il suo avversario già in apertura. Prima di iniziare ricordo a tutti di mettere mi piace e di iscrivervi al canale, grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo. Ok eccoci qui, al decimo turno Caruana affronta con i pezzi bianchi il grande maestro più giovane della storia, Abhimanyu Mishra, 2591 punti allo fide, che sono tantissimi, ha solo 14 anni ancora. Caruana apre con pedone E4, segue C5, difesa siciliana, cavallo F3, siciliana aperta, D6, alfiere B5. Caruana dà subito scacco con l'alfiere e prepara il rocco corto. Mishra para di alfiere, alfiere D7, segue pedone C4. Caruana intende impostare un sistema in stile Maroxi, il cosiddetto muro di Maroxi. Mishra sviluppa il cavallo in F6, attacca il pedone in E4. Caruana difende con cavallo C3, segue G6, alfiere per D7, donna per D7, arrocco e alfiere G7. Il nero sta per mettere il real sicuro, il bianco sta per giocare pedone D4, quindi stiamo per entrare in un Maroxi a tutti gli effetti. Segue appunto pedone D4, pedone per D4, donna per D4 e cavallo C6. Cosa possiamo dire di questa apertura? Questa apertura è una delle varianti più forti che il bianco ha a disposizione per affrontare la difesa siciliana. È un'apertura molto solida, il bianco controlla il centro, intende giocare pedone B3 e pedone F3 e a tutti gli effetti poi la formazione del bianco è un muro. Quindi, ora Caruana si ritrova con la donna sotto attacco, la ritira in D3. Mishra mette il real sicuro con l'arrocco, segue alfiere D2, pedone A6, torre B1. A cosa serve torre B1? Con questa mossa Caruana intende giocare pedone B3 e pedone B4 e comunque toglie la torre dalla diagonale di case scure che è attaccata dall'alfiere. Mishra salta con il cavallo in G4, vuole giocare cavallo E5. Caruana ritira la donna in E2, arriva torre C8, cavallo D5. Il cavallo in D5 è un pezzo molto forte, torre C8 non è granché come mossa, l'ha segnata come precisione perché ora in questa posizione le due torri soffrono parecchio. Di fatto qui il bianco già vuole giocare cavallo B6 e attaccare entrambe le torri e la donna. Quindi Mishra ritira indietro la donna in D8 e controlla la casa B6 e Caruana gioca alfiere C3. Se ne esce con un piano molto originale, in pratica vuole cambiare gli alfieri, catturare con il pedone, difendere la casa B6 e poi saltare con il cavallo in B6 per guadagnare la torre. Mishra per qualche motivo decide di catturare, quindi fa il gioco di Caruana qui. Caruana riprende di pedone appunto e arriva a torre B8. Ok, qui il nero già si ritrova in una posizione passiva perché i pezzi pesanti non hanno spazio, ma Caruana gioca davvero bene. Arriva una super mossa che manda in tilt l'avversario e questa mossa è pedone C5, una mossa bellissima. Caruana non gioca subito cavallo B6 che sarebbe stata buona comunque, ma gioca a pedone C5. E Mishra continua con cavallo E5, errore, sbaglia, grosso vantaggio per il bianco. A cosa serve C5? Perché Caruana sacrifica un pedone? Vediamo una possibile variante. Pedone per C5, cavallo B6, il cavallo attacca la torre, torre C7 unica, cavallo G5, la donna ora attacca il cavallo in G4, e dopo cavallo F6 arriva torre D1, il bianco attacca la donna, la donna si sposta e questa posizione è semplicemente disastrosa per il nero. Il nero ha le torri completamente bloccate, non si possono muovere, la colonna D è dominata dal bianco. Questa partita praticamente è già finita. Il bianco può spingere anche il pedone in E5, buonanotte insomma. Ok, allora su C5 Mishra gioca cavallo E5, Caruana cattura e dopo cavallo per E5 arriva pedone F4. Dominio bianco, Caruana si riconferma un esperto di aperture. Mishra ritira il cavallo in D7, segue pedone per D6, pedone per D6, pedone in F5. Ora Caruana vuole anche aprire la colonna F ed attaccare sulla colonna F. Segue donna G5 da parte di Mishra, torre F4, vedete Caruana si prepara a raddoppiare le torri. Cavallo E5, torre F1, torre C5. E beh, Mishra qui ragazzi potrebbe anche abbandonare effettivamente perché il vantaggio del bianco è enorme, però continua a giocare e ora porta la torre in C5 perché vuole sacrificare la torre sul cavallo, dato che il bianco minaccia di catturare, di entrare con il cavallo in F6 dando scacco. Insomma, un vero disastro. Segue donna in E3 per Caruana, torre F8, Mishra prova a difendere, donna H3, bellissima questa manovra. Perché la porta in H3? Perché ora veramente dopo pedone per G6, mettiamo F per G6, arriva scacco su Re G7, donna H7, scacco, scacco matto insomma. Fine della partita. Quindi Mishra a questo punto dà la torre sul cavallo. Caruana cattura e ha un vantaggio di più 6.3. Posizione completamente vinta. In queste posizioni uno si aspetta l'abbandono. Questo abbandono non arriverà praticamente mai in questa partita. E questa partita poi sarà lunghissima. Segue torre in E8 da parte di Mishra. Caruana apre la colonna F e dopo pedone per G6 gioca donna E3. In pratica minaccia torre F8 scacco, donna per donna e quindi di guadagnare la donna. Mishra ritira la donna in D8. Caruana gioca H3. Segue Re G7, donna D4. La donna inchioda il cavallo e attacca il Re. Torre 7 per Mishra. Torre F6 per Caruana. Torre D7, donna in F4. Ora Caruana mette tutti i pezzi in colonna. Mishra continua con torre C7 e attacca il pedone in C3. Caruana difende questo pedone e inoltre attacca in D6. Segue cavallo C4. Mishra difende. E Caruana ritira la torre in F2. Ora diciamo che Caruana si rilassa un pochino troppo in questa partita. Rimane sempre in vantaggio. È una partita dominata dall'inizio alla fine. Però ecco, si è rilassato un pochino troppo perché la partita poi durerà tantissimo. Segue donna G5 per Mishra, attacca il pedone in D5. Caruana gioca donna A4 con varie idee. Vuole venire a dare scacco matto. Donna E3, Mishra inchioda la torre e vuole giocare cavallo D2. Donna D1, Caruana ritira la donna in difesa. Segue donna per C3, torre F3. Caruana attacca la donna. Donna D2, Mishra offre il cambio. Caruana rifiuta da scacco. E dopo cavallo E5, gioca a torre D1. Continua ad attaccare la donna. La donna va in C2, arriva a torre F2. Donna E4, pedone A4. Quindi Caruana mantiene vantaggio, ha la qualità in più. Però ancora non sta trovando il modo di chiudere questa partita. Mishra spinge in H5, Caruana spinge in A5. Segue donna E3, Mishra inchioda la torre. Vuole giocare mosse come torre C2 e guadagnare un pezzo. Caruana allora difende con donna B2. Segue pedone G5, donna B6. In questo modo Caruana forza il cambio delle donne. Sta attaccando la torre. Quindi segue donna per donna, pedone per. Rientriamo in questo finale. Finale vinto per il bianco. Mishra attacca con la torre il pedone in D5. Caruana gioca a torre F5, attacca il pedone in G5 invece. Dopo Re G6 gioca a torre F1. Lascia in presa il pedone in D5 perché vuole cercare di entrare a catturare il pedone in B7. Quindi segue torre per D5, torre F8, pedone G4, scacco da dietro al Re. Re in H7, torre B8 appunto. Caruana vuole sfruttare il suo pedone passato. Mishra attacca il pedone. Arriva torre per B7, scacco. Re G6, pedone per G4, pedone per G4, torre B8. Finalmente il pedone B può avanzare e può poi andare a promozione. Tuttavia non è proprio così banale, no? Re G7 per Mishra. Re H2. Torre B3. Torre C1. L'idea di Caruana è di dare scacco in G7, avanzare il pedone, spostare via la torre e poi andare a promozione. Questo è il suo piano. Mishra gioca a Re F6. Caruana appunto continua con torre C7. segue cavallo G6, pedone B7, ora il pedone è a un passo dalla promozione, pedone G3, scacco, Re H3, cavallo F4, scacco, Re G4. Ora Mishra in questa posizione non cattura il pedone in G2, sarebbe comunque perso la partita perché questo pedone è più pericoloso. Il nero poi deve dare la torre e poi il bianco può rientrare. Ma gioca cavallo E6. Cavallo E6 in pratica ha come idea quella di catturare questo pedone. Caruana continua con torre D7, segue cavallo C5, torre per D6, scacco, Re 5, torre C6, la torre attacca il cavallo. Cavallo D7, Mishra attacca la torre. Caruana sposta la torre con scacco. Segue Re D5, torre per A6, torre per B7. La posizione si semplifica ulteriormente e rimane vinta per il bianco perché il bianco può catturare il pedone G3. Quindi ha anche un pedone passato con il quale può andare a promozione. Mishra continua a non abbandonare, è molto strano questo veramente, cioè questi sono giocatori fortissimi qui, sanno che la posizione è persa. Segue torre B3, scacco, Re H4. Cavallo C5, torre A5, Caruana inchioda il cavallo. Mishra sposta il re in D6, arriva G4. Caruana vuole andare a promozione. Re D7, torre 1. Cavallo B7, torre A7. Caruana di nuovo inchioda il cavallo. Mishra lo difende con il re, segue pedone G5, re in B6 e Caruana qui giustamente sceglie di semplificare. Gioca torre per B7, re per B7 e il pedone avanza ancora. Questo è un finale elementare. Il re del nero è completamente fuori gioco. Il bianco invece può supportare il pedone e può andare a promozione. Mishra comunque ancora non abbandona. Gioca Re C6, segue G7, torre in B8, re H5, re D5 e solo in questa posizione Mishra poi decide di abbandonare. Qui, ripeto, non c'è nulla da fare. Nel senso che il bianco può difendere il pedone. Dopo qualsiasi mostra del nero, il bianco può piazzare ad esempio il re in H7, andare a promozione. Lero deve sacrificare la torre, segue R per torre, il bianco rimane con la torre in più e poi da scacco matto. Caruana in questo momento è fortissimo. Ha vinto un sacco di partite, si è appena riconfermato campione statunitense 2023. Ora manca solo il titolo di campione del mondo. Chissà se mai riuscirà a diventarlo. Grazie a tutti per la visione di questo video. Vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima!